Ciao bambini, sono Maria Grazia e oggi vi racconterò la storia del principe che sposò una rana. C'era una volta un re che aveva tre figli in età da prendere moglie. Perché non sorgessero rivalità sulla scelta delle tre spose, disse Tirate con la fionda più lontano che potete. Dove cadrà la pietra, là prenderete moglie. I tre figli presero le fionde e tirarono. Il più grande tirò e la pietra arrivò sul tetto di un forno ed egli ebbe la fornaia. Il secondo tirò e la pietra arrivò alla casa di una tessitrice. Al più vicino la pietra cascò in un fosso. Appena tirato, ognuno correva a portare l'anello alla fidanzata. Il più grande trovò una giovinotta bella soffice come una focaccia. Il mezzano una pallidina fila come un filo. Il più piccino, guarda guarda in quel fosso, non ci trovò che una rana. Tornarono dal re a dire delle loro fidanzate. Ora, disse il re, chi ha la sposa migliore erediterà il regno. Facciamo le prove. E diede a ognuno della canapa perché gliela riportassero di lì a tre giorni filata dalle fidanzate, per vedere chi filava meglio. I figli andarono delle fidanzate e si raccomandarono che filassero un tino. E il più piccolo, tutto mortificato, con quella canapa in mano, se ne andò sul ciglio del fosso e si mise a gridare. Rana! Rana! Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non mama mamerà, quando bella mi vedrà! E la rana salto fuori dall'acqua su una foglia. Il figlio del re le diede la canapa e disse che sarebbe ripassato a prendere la filata dopo tre giorni. Dopo tre giorni, i fratelli maggiori corsero tutti ansiosi dalla fornaia e dalla tessitrice a ritirare la canapa. La fornaia aveva fatto un bel lavoro, ma la tessitrice era il suo mestiere. L'aveva filata, che pareva seta. E il più piccino andò al fosso. Rana! Rana! Cro! Chi mi chiama? L'amor tuo che poco t'ama! Se non mama, mammerà, quando bella mi vedrà! Cro! Cro! Altò su una foglia e aveva in bocca una noce. Lui si vergognava un po' di andare dal padre con una noce, mentre i fratelli avevano portato la canapa filata. Ma si fece coraggio e andò. Il re, che aveva già guardato per dritto e per traverso il lavoro della fornaia e della tessitrice, aperse la noce del più piccino e intanto i fratelli sghignazzavano. Aperta la noce, ne venne fuori una tela così fina che pareva tela di ragno. E tira, tira, spiega, spiega, non finiva mai. E tutta la sala del trono ne era in base. Ma questa tela non finisce mai, disse il re. E appena dette queste parole, la tela finì. E il re disse, non c'è dubbio, sarà re, mio figlio minore e la rana sarà regina. Furono stabilite le nozze e tutti e tre i fratelli lo stesso giorno. I fratelli maggiori andarono a prendere le spose con carrozze infiorate tirate da quattro cavalli e le spose salirono tutte cariche di piume e di gioielli. Il più piccino andò al fosso e la rana l'aspettava in una carrozza fatta ad una foglia di fico tirata da quattro lumà. Presero ad andare. Lui andava avanti e le lumache lo seguivano tirando la foglia con la rana. Ogni tanto si fermava ad aspettare e una volta si addormentò. Quando si svegliò, gli si era fermata davanti una carrozza d'oro imbottita di velluto con due cavalli bianchi e dentro c'era una ragazza bella come il sole con un abito verde smeraldo. «Che siete?» disse il figlio minore. «Sono la rana!» E siccome lui non ci voleva credere, la ragazza perse uno scrigno dove c'era la foglia di fico, la pelle di rana e quattro gusci di lumaca. Era una principessa trasformata in rana. «Solo se un figlio di un re la consentiva a sposarmi senza sapere che ero bella, avrei ripreso la forma umana». Il re fu tutto contento e ai figli maggiori che si rodevano d'invidia disse che chi non era neanche capace di scegliere la moglie non meritava la corona. Re e regina diventarono il più puccino e la sua sposa. Vi è piaciuta la storia? Vedrete, andrà tutto bene. Alla prossima, ciao!